ciao a tutti io sono cap e queste sono robe da cap fin da piccoli ci insegnano che l'otto marzo è la festa delle donne perché nel 1908 proprio l'otto marzo a new york nell'industria tessile cotton ci fu un grande incendio dove morirono moltissime donne donne che lavoravano con orari impensabili e il padrone aveva chiuso le uscite con dei catenacci e quindi trovarono la morte di dentro e quindi a seguito di questa tragedia si è deciso di mettere l'otto marzo come festa della donna immagino questa storia la conosciate tutti ebbene questa storia è un falso storico cioè non è vero da un curiosito penso proprio di sì e allora non ti resta che continuare a vedere questo video iscriviti al canale se non l'hai fatto e buona visione eccoci qua allora innanzitutto facciamo una piccola premessa ai inizi del 1900 fino agli inizi del 1100 le condizioni delle donne non erano proprio così idilliache oddio non lo sono stato poi per tanti altri tempi però nostra storia inizia inizio del secolo scorso pensate che le donne non avevano il diritto di voto in molti paesi la loro figura era relegata a essere madre moglie essere succube del marito o del padre del capofamiglia pensate che in italia se una donna lasciava il tetto coniugale poteva essere arrestata al contrario l'uomo no pensate che anche lo studio non è che fosse alla portata di tutte le donne gli fosse permesso o che comunque avessero credibilità poi nei studi universitari trovare una donna medico o ingegnere o nel ramo della fisica era una cosa assai rara e nel caso in cui ci fosse stata una dottoressa o un ingegnere donna non è che venivano prese molto in considerazione pensate che Maria Levi Montalcini nota neurobiologa italiana partecipò a un convegno e però prima di entrare una donna gli disse è qui con suo marito e Maria Levi Montalcini rispose sono io mio marito la donna che ha fatto questa domanda la guardò perplessa come a dire ecco questa non capisce neanche l'inglese la seconda precisazione che devo fare è riguardo all'incendio che ho parlato inizialmente in realtà un incendio ci fu ma avvenne il 25 marzo del 2011 sempre a New York ma l'industria tess non era la cotton ma la triangle scusate la pronuncia e morirono 146 operai di cui 123 donne e 23 uomini tra le donne moltissime erano immigrate italiane e ebrei ed è vero che furono chiusi dentro perché potessero lavorare di più e non uscissero ma allora perché non si festeggia il 25 marzo ma l'otto marzo da dove è uscita fuori questa data ebbene la nostra storia inizia nel 1907 precisamente dal 18 al 24 agosto dove a Stoccarda in occasione del settimo congresso della seconda internazionale socialista qui i partiti socialisti misero in discussione la tematica della donna e arrivarono a concludere che partiti socialisti si sarebbero impegnati per far sì che le donne ottenessero il diritto al volo alla fine del 1908 il partito socialista d'america decise di dedicare una giornata interamente alla questione femminile e precisamente alla rivendicazione dei diritti delle donne questa giornata fu indicata come l'ultima domenica di febbraio quindi la prima giornata della donna negli stati uniti fu il 23 febbraio del 1909 la seconda conferenza internazionale delle donne socialiste che si svolse a copenhagen il 26 il 27 agosto del 1910 vide di buon occhio quanto fatto dal partito socialista d'america e decise di istituire una giornata internazionale dedicata alla rivendicazione dei diritti delle donne solamente che questa giornata non fu per tutti uguale infatti vari stati festeggiarono questa giornata un po come vi pareva diciamo nella data più propensa per loro ma ecco che arriviamo all'otto marzo infatti in piena prima guerra mondiale l'otto marzo del 1917 le madri le figlie le moglie dei soldati russi impiegati al fronte contro la germania scesero in piazza per manifestare il loro no alla guerra e chiedere il cessato del fuoco e il ritorno a casa dei loro familiari dei loro uomini fu proprio in occasione di questo evento che a mosca 1921 il partito comunista stabili l'otto marzo come giornata internazionale delle operai poi divenuta giornata internazionale della donna in italia la giornata della donna si svolse nel 1922 ma non l'otto marzo ma il 15 poi per molto tempo durante il ventennio fascista e la guerra questa festa della donna non fu più celebrata fu solamente nel settembre del 1944 che diciamo l'unione delle donne italiane decise di festeggiare il successivo 8 marzo quindi l'otto marzo 1945 come la giornata delle donne nelle zone liberate dell'italia la costituente come prima cosa e per volere del partito socialista e del partito comunista decise che per la prima volta anche le donne avrebbero votato ma bisogna aspettare gli anni 70 perché in italia nasca un vero e proprio un movimento femminista e pensate l'otto marzo del 1972 ci fu la prima manifestazione a campo dei fiori a roma dove le donne chiesero maggiori diritti e soprattutto anche la legalizzazione dell'aborto oggi la situazione non è migliore oggi pensiamo sicuramente che la donna ha avuto maggiori diritti può studiare può votare però non può vestirsi come gli pare perché a seconda di come si veste può essere giudicata una mala femmina diciamo così o una prostituta addirittura se una ragazza che si azzarda a girare in gonna o in mini gonna addirittura e viene stuprata se l'è cercata cioè non è colpa dell'uomo che ha violentato la ragazza è lei che non lo avesse in quel modo ovviamente se una donna fa politica non può dire la sua no e soprattutto non ci si rivolge e politicamente non si attacca questa donna a livello politico sul piano politico no si paragona a una prostituta gli si augura di essere stuprata o addirittura viene esposta una bambola gonfiabile sul palco di un comizio per sbeffeggiare e offendere l'avversaria politica questo è accaduto come ben sappiamo a un congresso della lega dove il protagonista purtroppo maschile fu Matteo Salvini i femminicidi sono all'ordine del giorno perché c'è una concezione che sta sempre nascendo che viene martellata in cui la donna non è libera di lasciare un uomo mi sembra ovvio che abbiamo molto da fare perché una donna possa essere considerata al pari di un uomo a livello non tanto di diritti scritti ma di diritti non scritti un giorno in cui una donna potrà uscire senza essere etichettata come prostituta o quant'altro quando non sentiremo soprattutto un'altra donna che è la cosa più agghiacciante augurare a un'altra donna di essere stuprata allora quando queste cose non ci saranno forse allora avremo fatto dei passi avanti per il momento abbiamo molto da lavorare ma ripeto occorre lavorare molto sulla testa sulla nostra testa sul nostro linguaggio sul nostro modo di pensare e di vedere le cose come stanno detto questo io spero di avervi fatto conoscere nuove cose e mi resta che dirvi di condividere questo video se vi è piaciuto e alla prossima ciao poi spermi tutti scusate mi sono dimenticato una cosa importante l'8 marzo si regala la mimosa le donne perché innanzitutto diciamo che solo in italia si regala la mimosa mentre il fiore tipo in francia è la lavanda ma questa usanza nasce da due donne della costituente italiana che nel 1946 indicarono questo fiore come il fiore simbolo della festa della donna ovvero rita montagnana e teresa mattei militanti comunista quest'ultima e proposero appunto la mimosa perché era una pianta che fioriva in questo periodo era anche facile da reperire fu scelto quindi un fiore abbordabile per tutti quanti ma anche perché la mimosa era una pianta è una pianta rustica una pianta resistente così come la donna e altra cosa in particolare il ramuscello di mimosa era il fiore che i partigiani regalavano alle staffette ora è tutto alla prossima ciao